Restare a casa oggi, hanno detto i componenti della band, vuol dire stringersi ancora domani. I Tulipa, la band valdianese, presenta così il nuovo singolo e il nuovo video. Si tratta di stringersi ancora. Ogni persona che si è impegnata a far parte del nostro progetto, e non, ha contribuito a colorare il grigiore di questi giorni cupi e ad urlare con il proprio sorriso che presto tutto ciò finirà. Ringraziamo di cuore tutti voi, augurandoci che stringersi ancora possa diventare presto pura realtà. La band è composta da una ragazza di Sala Consilina, Aurora Monaco, che è la voce del gruppo, e da Samuele Petrosino e Michele Barrese, sempre di Sala Consilina, oltre a Carmine Quaranta e Valerio Paladino di Polla. Questa canzone, dice Carmine Quaranta, dedicatela al vostro grande amore, anche se non c'è. Dedicatela alla vostra persona, a chi li tenete importante. Dedicatela senza vergogna a chiunque vi faccia star bene, soprattutto in momenti come questi, dove la lontananza separa un po' le persone. Voi stringetevi ancora, nonostante tutto. Per tutte le cose che avevo bisogno, di stare solamente qui con te, di stare solamente qui con te.